Quello di Brescia è il quinto caso in pochi giorni. Una madre di 39 anni e la figlia sono morte durante il parto all'ospedale di Torino. La blogger 35enne Marta Lazzarin è deceduta martedì all'ospedale di Bassano del Grappa al settimo mese. Lo stesso giorno affogge una donna di 23 anni è morta al nono mese di gravidanza e il giorno di Natale una 34enne vicentina, Anna Massignan, è morta dopo essere caduta in casa mentre il neonato è deceduto successivamente. La mamma di Brescia di 30 anni Giovanna Lazzari sposata e con due figli di un anno e mezzo e di quattro anni, residente arezzato, all'ottavo mese di gravidanza avrebbe dovuto partorire tra 15 giorni. Invece lei e la bimba che aveva in grembo sono morte agli ospedali civili di Brescia il 31 dicembre. La donna era arrivata in ospedale mercoledì notte in condizioni gravi con febbre alta e sintomi di gastroenterite. La giovane mamma era stata monitorata tutta la notte ma alle otto di giovedì mattina la situazione era precipitata quando i medici avevano deciso di iniziare il parto cesareo. Il feto era già morto e la madre in condizioni critiche è stata trasferita nel reparto di rianimazione dove è morta poco dopo alle 13. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane mamma e sul feto per capire i motivi della morte. Autopsia che è stata effettuata questa mattina all'istituto di medicina legale di Verona. Secondo il marito Roberto la moglie sarebbe stata trascurata dai medici. Ezio Belleri, direttore generale dell'ospedale, ha difeso l'operato dei medici dicendo che la donna è stata tenuta sotto osservazione 24 ore su 24 e che verranno fatte tutte le verifiche del caso. Giovanna e la sua famiglia hanno la piena solidarietà del personale del civile. Nei prossimi giorni inoltre verrà fatta un'attenta valutazione di tutti i passaggi effettuati dall'arrivo in pronto soccorso della paziente fino alle gravissime complicazioni che hanno portato al decesso.